Complimenti vivissimi alla Polizia Penitenziaria del carcere San Vittore di Milano. Ho ricevuto video e foto della situazione, sono foto e video esclusivi, quindi non posso farveli vedere, per come si sono comportati. Sono riusciti a riportare l'ordine all'interno, nonostante fuoco, fiamme e disordini, senza vittime, senza feriti e senza conseguenze fisiche per nessuno. Grazie a loro e grazie al pronto intervento dei Vigili del Fuoco. A Milano qualcosa funziona.